Rossetti abbiamo aperto un discorso importante, soprattutto perché Rossetti è uno sensibile a questi argomenti. Ha sempre operato nel sociale, ha collaborato con la Bianca Costa, è attualmente al Davide Chiossone, quindi diciamo che ha sempre operato in questo mondo. In questo mondo noi viviamo, essendo riabilitatore dei post coma, un mondo molto difficile, molto particolare per gli esiti che lascia questa grave disabilità e abbiamo bisogno appunto di esporre quelle che sono le esigenze, le difficoltà attuali e quello che ci proponiamo per il futuro. Noi mi riavamo ad esempio a semplificare le nostre strutture in un'unica struttura per un recupero di costi e per la possibilità quindi di dare maggiori terapie, maggiore assistenza, maggiore possibilità di aperture. Sicuramente si apre un discorso con la regione, è importante perché questo mondo che è oggi in molta difficoltà e per i tagli e per i dimensionamenti vive una crisi profonda che non è solo del disabile ma delle famiglie e questa difficoltà a volte contrasta con quello che purtroppo a me si sente, sprechi, spese inutili che fanno quasi pensare che questo mondo sia non solo sconosciuto ma soprattutto sottovalutato. Quindi questo è il nostro compito difficile, ardu, in salita, ma proprio con Rossetti che è uno, ripeto, ho già detto sensibile, iniziare passo dopo passo a recuperare quello che deve essere poi sostanzialmente quello che prevede la Costituzione, cioè il diritto alla salute del cittadino italiano. Io spero che questa attività non si faccia morire ma la si aiuti, questa è un po' la sintesi della riunione di questa mattina. Hanno parlato i disabili, hanno parlato le famiglie, l'assessore ha raccolto. Speriamo che da queste proposte nasca il fiore, quello della speranza che finalmente si inverta il cammino verso questo tipo di assistenza ai disabili.